Quattro anni dal crollo del Ponte Morandi, ma Genova, i genovesi, le famiglie delle vittime non possono essere dimenticate, il passare degli anni si deve tenere vicino loro. Io da ministro dell'infrastruttura e dei trasporti feci tutto quello che potevo fare, il decreto Genova che cambiava completamente le regole del gioco per i concessionari autostradali, le regole del gioco nuove e più favorevoli per voi cittadini congelate fino ad oggi dai successivi ministri dei successivi governi, il decreto Genova che ha posto le condizioni per la ricostruzione in circa un anno e mezzo, cosa mai vista prima del nuovo Ponte Morandi. Però sono qui anche a dire con il coraggio che in pochi anni che lo Stato doveva fare di più. Io ero pronto già nella primavera del 2019 a revocare la concessione, ma serviva una maggioranza in Parlamento che la Lega non ci ha mai concesso, serviva un appoggio e la firma del decreto interministeriale anche dell'allora ministro dell'economia e delle finanze. Serviva un appoggio forte anche da parte del Presidente del Consiglio. Invece il governo Conte I cadde, io non venni confermato al Ministero, le azioni di Atlanti, Aspi, della famiglia Benetton schizzarono verso l'altro facendo guadagnare loro un sacco di centinaia di milioni di Euro. E poi con il governo Conte II tutto congelato, tutto congelato, non si mosse più una foglia finché benissimo la cacciata del concessionario dalla gestione delle autostrade, ma malissimo il fatto che gli siano stati dati troppi soldi che non gli spettavano. Con un po' più di coraggio quella concessione sarebbe stata revocata e ce ne saremmo dovuti fregare, e io lo facevo già allora, del rischio di contenzioso e lo abbiamo dimostrato con i fatti perché hanno ricorso anche in via incidentale la Corte Costituzionale, ma il decreto Genova è stato dichiarato legittimo costituzionalmente e avremmo vinto anche di fronte a qualsiasi altro tipo di tribunale. Ma oggi non rimane che il ricordo e la vicinanza alle vittime che da parte mia e le famiglie delle vittime che da parte mia ci sarà sempre.